e salve salve a tutti bentornati sul canale bentornati al dingo show oggi mi sento molto rock come vedete dalla maglietta e bene bene sono contento c'è stata un'evoluzione del trio perché sono arrivato ad avere tre cantanti tre cantanti donna e perché tre cantanti tre incantati perché vedo che c'è poca disponibilità si rischia di perdere tempo aspettando fra una prova e l'altra quindi ho pensato bene di coinvolgere anche altre persone non ho chiuso con nessuno quindi il discorso lo porto avanti con tre persone quindi evoluzioni grandi evoluzioni c'è da riorganizzare le prove logicamente mentre essendo in tanti c'è da riprogrammare anche un po il repertorio che varierà su più stili quindi molto bene sono molto contento sull'evoluzione e il fatto che coinvolgo anche altre persone bene si torna al fumetto si torna al fumetto vintage al fumetto del passato come avete visto dalla copertina santiago che è quella serie degli anni 90 gli anni 90 era quel periodo dove tutte le case tantissime case editrici proponevano tanti personaggi era un periodo dove le uscite di nuove serie erano all'ordine del giorno infatti anche il bunker con kerry cross la bonelli stessa con gregory hunter quella testata di fantascienza la le edizioni star comics con samuel sand che ne ho parlato anche in un precedente di un video purtroppo serie composte da pochi numeri e hanno preso poco con il pubblico hanno avuto poche vendite ci sono state poche uscite le serie si sono ridotte a pochi numeri quindi miniserie che purtroppo non hanno preso i lettori non hanno coinvolto bene i lettori il nostro santiago per le edizioni star comics aveva quel formato leggermente più grande del diavolo che della lanford secondo me è molto interessante molto pratico quel pocket del fumetto era un 13 per 18 e mezzo costava 3000 lire e aveva 98 pagine il soggetto e la sceneggiatura di rocco dozzini gli splendidi disegni di marco turini la copertina davide messina colorata da matteo de benedittis i numeri usciti sono purtroppo in tutto 3 annunciato addirittura un quarto numero ma mai andato mai uscito mai andato in edicola il fumetto in questione è questo il numero uno attentato a roma il numero uno attentato a roma poi era uscito un secondo numero delitto e passione il terzo paranom oldivar per non dimenticare la traduzione annunciato poi il quarto l'inferno degli innocenti ma mai uscite è un fumetto d'azione a tematica gialla presenta le avventure del nostro santiago colombo che è un giovane sudamericano che vive in roma studia giurisprudenza giurisprudenza a napoli praticamente lui ha dentro di se l'utopia di voler cambiare le cose di voler cambiare il mondo purtroppo però la serie non ha avuto successo peccato perché anche soltanto i disegni vi faccio vedere già la copertina molto bella i disegni erano molto belli molto ben definiti belli questi volti questi personaggi un po con queste ombre al volto ombre non ombre perché sono ombre però chiare c'è questo effetto con queste righe nel viso che da delimita l'ombra infatti poi dietro c'è la pubblicità anche di samuel sand che è quell'altra serie che ne ho parlato nel video di mistero un po alla x files anche quella però purtroppo chiusa in pochi numeri una decina di numeri neanche e allora edizioni star comics santiago e allora vi aspetto per altri fumetti perché come dicevo negli altri video ho un sacco di materiale a disposizione e li farò vedere volta per volta allora iscrivetevi al canale un saluto dal vostro dingo